In Campania si programma la fase 2 per la somministrazione del vaccino e quindi le liste dei destinatari. La partenza è programmata fra marzo e aprile prossimo. Nello specifico l'ASL Salerno è al lavoro per attivare altri ambulatori per la somministrazione dei medicinali. L'azienda sanitaria aveva già individuato quattro hub, dove oltre alle iniezioni sono conservati i vaccini. Negli ospedali di Battipagliano c'era Inferiore, Vallo della Lucania e Polla e sette Spock, praticamente strutture secondarie dove i medicinali vengono soltanto trasferiti per essere somministrati e quindi Eboli, Sarno, Agropoli, Sapri, Oliveto Citra e Roccadaspide. Gran parte di queste strutture secondarie sono già attive, altre inizieranno le operazioni nei prossimi giorni. Secondo il programma saranno avviati altri nove punti dove iniettare i farmaci prodotti, al momento da Pfizer e Moderna. Nell'ambito del rafforzamento della campagna vaccinale sul territorio, l'ASL ha in programma inoltre di dare vita ad altri nove Spock distrettuali, da allestire all'interno delle sedi dei propri distretti. Il distretto 60, Nocera Inferiore, poi quello di Angri Scafati, Sarno Pagani, Cava Costiera, Eboli Buccino, Salerno, Mercato San Severino, Giffoni Vallepiana ed infine il distretto 72, Sala Polla.